Nel quadro dell'iniziativa intraprese in questa giornata dedicata contro la violenza alle donne, anche l'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra ha voluto dare il proprio contributo con delle semplici iniziative che hanno visto il coinvolgimento dei bambini, della scuola dell'infanzia di Piano Botte e della scuola secondaria di primo grado che si sono esibiti in una performance di ballo. Questo tipo di iniziative servono a ricordarci che la violenza di genere è purtroppo ancora una realtà molto diffusa e che la strada da percorrere è ancora lunga. Questo evento semplice ma significativo vuole essere un'occasione di riflessione anche da parte dei bambini che molte volte non vengono considerati per le conseguenze indirette che possono sobbire e nell'assistere a scene dure e vivere in un clima di paura può determinare delle ripercussioni, spesso drammatiche. Sì, anche noi ci tenevamo particolarmente. Io ho fatto questa proposta alle colleghe di partecipare, di prendere, di aderire a questa iniziativa e le colleghe sono state tutte entusiaste. Noi siamo tutte donne ma siamo soprattutto delle educatrici e non potevamo non cominciare a instillare nel cuore dei nostri bambini dei sani principi quale possa essere quello della mancata violenza sempre e comunque soprattutto nei confronti delle donne. Quindi ci tenevamo particolarmente ad essere presenti. Abbiamo accolto con grande entusiasmo, con grande passione, gli alunni della scuola secondaria di primo grado anche perché buona parte di questi alunni sono stati alunni nostri e quindi c'è anche un legame affettivo che ci lega a loro. I nostri piccoli, sebbene siano piccoli, e gliene abbiamo parlato in più occasione, hanno compreso molto bene qual era il significato della giornata di oggi, sia contribuendo portando le loro scarpette rosse, sia con la realizzazione di un fiore che è stato donato alle ragazze. Ed è stato un gesto altamente simbolico ma pregno di grande significato. Quindi Piano Botte aderisce al no alla violenza, no al femminicidio.